In questo tutorial vedremo come realizzare in maniera semplice e veloce la grafica per poterla inviare alla nostra LEF2 200 e stampare quindi un oggetto qualsiasi. Nel nostro caso inizieremo con una cover da smartphone. Quindi con la cover a portata di mano andiamo a rilevare le misure dell'altezza e larghezza della cover che sono indispensabili per questa procedura. Eventualmente andiamo a dare un'occhiata pure a misure come i fori della fotocamera per far sì di evitare di includere grafica all'interno di questi spazi. Quindi su Inkscape già aperto andiamo sulla voce proprietà del documento si apparirà questa finestra di dialogo dove andremo semplicemente a includere e assegnare praticamente le grandezze della nostra pagina. Possiamo chiudere tranquillamente questa finestra di dialogo ed eventualmente ingrandire l'area di lavoro facendo clic su questa iconcina. Ossia adattare la pagina alla finestra. Tasto di scelto rapida 5. Altra operazione che vi consiglio di fare sul menu modifica è creare le guide attorno alla pagina. Questa è molto utile in quanto con le operazioni che faremo successivamente potremo tranquillamente dare un'occhiata a come si comporterà la nostra bitmap all'interno della pagina. Altra operazione è quella di trascinare tramite il righello una linea guida. In questo caso il doppio clic alla linea guida mi consente di poter modificare il posizionamento del punto della linea guida in modo da avere sotto occhio quella che è la linea guida legata al foro della fotocamera. Andiamo ad includere una grafica dal menu importa, scegliamo una foto, mettiamo questa di Stranger Things, ok, diamo ok per includere all'interno. Dopodiché andiamo a vedere tutto il foglio di lavoro con il tasto control, andiamo a ridimensionare la nostra immagine per far sì che entri all'interno della nostra area di lavoro. Come ben vedete le linee guida mi danno l'indicazione di quelli che saranno i tagli che avverranno nella grafica. Capite che in questo caso Stranger Things sarà tagliato da questa parte, cosa che non voglio assolutamente. Quindi vado a ridimensionare in questa maniera, sposto ulteriormente sulla destra e quindi avrò un taglio sul foro su questo lato e mi può pure star bene. Perfetto, a questo punto dal momento in cui la grafica è ben visibile sulla nostra area di lavoro non faccio altro che andare a salvare con nome questa impostazione scegliendo tra i formati il formato PDF. Cover, PDF, salvo, ok e, funzione molto importante, usa dimensione pagina documento ed altra impostazione, usiamo 200 dpi per quanto riguarda le dimensioni in pixel sull'esportazione della bitmap. Quello che abbiamo fatto è la generazione di una grafica perfettamente tagliata in base a come l'avevamo posizionato nella nostra cover. Perfetto, questo è il file pronto per essere inviato in stampa, cosa che vedremo in un altro tutorial.